Lo scorso anno era stato salvato e recuperato dalla strada e qualche giorno fa ha fatto perdere le sue tracce. Un intero quartiere si mobilita a Sulmona per ritrovare il gatto che faceva compagnia all'anziana nonnina. Accade in via Aldomoro. Episodi come questi ci fanno ancora sperare che si può vivere in una comunità, in una città civile. L'animale è stato smarrito qualche giorno fa, come ci ha scritto il nipote della donna. Faceva compagnia a mia nonna, costretta a casa per una malattia, spiega Sulmonese, che si è messo alla ricerca del gatto. La stessa cosa ha fatto il vicinato che lo sta cercando in lungo e in largo. In un'epoca dove si perdono i valori della prossimità per lasciare spazio all'indifferenza, la vicenda del gattino è sicuramente una buona notizia. Ora si spera che si riuscirà a ritrovarlo.